Diamoci da fare ora come il Signore desidera per costruire un futuro di riconciliazione piena e di comunione fraterna. Non farlo sarebbe la colpa più grave di oggi. Sono le parole accorate che Papa Francesco ha rivolto al Patriarca greco ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, ricevuto questa mattina in Vaticano. Una visita che ricambia quella di Francesco alla Basilica del Santo Sepolcro nel maggio 2014, quando il Patriarca Teofilo accompagnò il Papa e il Patriarca Bartolomeo. Ricordando il suo pellegrinaggio, Francesco ha sottolineato che l'incertezza delle situazioni in Terra Santa per i conflitti decennali continua a causare insicurezza, limitazioni di diritti fondamentali e l'abbandono della propria terra da parte di molti. Vanno quindi moltiplicati gli sforzi per una pace stabile basata sulla giustizia e sul riconoscimento dei diritti di tutti. In obbedienza alla preghiera di Gesù per il suo oia al Cenacolo, siano una cosa sola. Perché il mondo creda, Papa Francesco ha ribadito il sincero desiderio e tutto l'impegno a progredire nel cammino verso la piena unità tra le due chiese. So bene che alcune ferite del passato continuano a lasciare segni nella memoria dei tanti. Non è possibile cambiare la storia, ma senza dimenticare le gravi mancanze di carità compiute durante i secoli, volgiamo insieme lo sguardo a un futuro di riconciliazione piena e di comunione fraterna. e diamoci da fare ora come il Signore desidera. Non farlo sarebbe la colpa più grave d'oggi. Sarebbe disattendere il pressante invito di Cristo e i segni dei tempi che lo Spirito semina nel cammino della Chiesa. Non lasciamo, ha concluso il Papa, prima di proporre e di recitare insieme il Padre nostro che i ricordi di epoche caratterizzate da reciproco silenzio o da scambi vicendevoli di accuse, le difficoltà del presente e l'incertezza del futuro ci impediscano di camminare insieme verso l'unità, di pregare insieme e di operare insieme per l'annuncio del Vangelo e a servizio dei bisognosi.